Sì, si prendono l'occhio dopo aver preso. Quanto deve stare per la presa? Una volta un'ora sotto la presa. Oh, ok. E poi si muovono l'occhio. Si muovono l'occhio dopo aver preso. Quanto deve essere preso? Sì. Ok, lo metto qui. Mi ha girato altre due volte. E il manifesto va domani mattina. Domani va in salina dove ci metterà. Ok, si resta qui. Si muovono due volte qui. Si resta qui tutto il giorno. E poi domani si va alla salina. Si mette il sale. Si mette il sale. Si mette il sale. Oh, ok. E' ancora soffice, no? Si. E quanto tempo che vuole che deve venire il formaggio incommestibile? Poi ci mette il fronte a dorme. Per essere preso, deve essere 60 giorni. Oh, ok. Dov'è la famiglia che vuole? Si. Allora, mio papà ha iniziato a 10 anni, proprio piccolo, con le latterie sociali. E l'ha fatto 23 anni di pendente. Nell'85 si è messo per conto pronti. L'ha fatto quando era 10 anni. Ah! E ha lavorato in una latteria come questa, per 23 anni. Ah, poi nell'85 si è messo per conto pronti. Nell'85 si è messo per conto pronti. In 85 si è messo per conto pronti. Ok. In un'atteria quella piccola, quella lancca. In un piccolo, in un piccolo, e... ... around the corner. Questa è stata questa nuova nel 1992. Ok, ha iniziato il business nel 1985. E questa nuova ha iniziato nel 1992. Quindi stanno iniziando il 30 anniversario. Sì, quasi il 30esimo anniversario. Siamo i 25.